E' ben presto rimbalzata anche in provincia di Sondrio la notizia dell'arresto di Duccio Astaldi, presidente del Consiglio di Gestione della Condotta SPA, impresa italiana leader nel settore costruzioni. Il GIP di Messina ha infatti disposto l'arresto di sei persone, fra cui il numero uno del Colosso dell'edilizia. Gli indagati sono coinvolti in una inchiesta che ha per oggetto una presunta tangente per lavori di realizzazione di tre lotti dell'autostrada Siracusa Gela. Le accuse formulate dalla procura sono a vario titolo, di turbata, libertà degli incanti, abuso d'ufficio e corruzione. Duccio Astaldi si trova agli arresti domiciliari. Tra i tanti cantieri nei quali opera il gruppo Condotte c'è anche quello per la tangenziale di Morbegno, che dovrebbe essere ultimato nell'estate di quest'anno. Ora si spera che le vicende siciliane non influiscano sul cronoprogramma della nuova arteria morbegnese.